Sono una donna che la vita se l'è scelta, ma se l'è conquistata con un percorso non semplice. Avevo letto questa immagine, questo frammento di questa donna che non ha visione di presentazioni e che guardava in un certo modo Anna Tatangio dall'alto dei suoi 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Rita Pavone! E' un po' così, cioè questa vita bellissima che hai, però è una vita piena di cosa, è una grande lotta, è una grande soddisfazione, è grande... Ma io mi ritengo una gratificata, mi ritengo una privilegiata perché faccio un mestiere che amo, cantare una parte di me è un po' la cornice della mia vita. Hai scritto lassù qualcuno mi ama. Sì, è vero. Dopo la pubblicità capiremo perché lassù qualcuno ama Rita Pavone, perché è una donna di grande spiritualità, che l'ha raggiunta magari attraverso delle difficoltà. Le scopriamo dopo la pubblicità. Grazie. Bentornati a una voce per Padre Pio, stavo chiacchierando amabilmente con Rita Pavone dicendo che tu hai detto lassù qualcuno mi ama un giorno, vogliamo spiegare perché? Allora dunque, una settimana prima che io avesse un intervento importante al tronco della orta, io mi sono trovata a una serata di piazza ed ero dentro la roulotte ed è entrata una signora molto bella, con i capelli lunghi, la quale era molto affettuosa. Mi ha aperto la porta e mi ha detto io sono la sua grande ammiratrice e mi ha dato in mano una miriade di madonnine da mettersi, se ne metta una sul cuore perché lei mi piace tanto, io l'adoro. Poi è andata via, non mi ha chiesto né una fotografia né un autografo, io sono rimasta un po' così. Come lei è uscita, è entrata la mia corista e le ho detto hai visto quella pazza che è uscita? È venuta qui, ha fatto tutta una cosa, mi ha lasciato tutte queste madonnine e lei mi dice no, non l'ho visto nessuno. E allora niente, praticamente io ho avuto questo incontro stranissimo con una persona che mi ha dato qualcosa che io ho messo sul cuore prima che mi accadesse il fattaccio di essere presa per i capelli e di avere un intervento difficilissimo al tronco della horta con due bypass. Ecco proprio quell'episodio, poi noi lo sappiamo, sono episodi che non hanno il concetto di miracolo vero, ufficiale, però aprono tanti pensieri, quelli che sono entrati nella tua vita, tanto che tu hai sentito il desiderio però poi di dare qualcosa agli altri. L'URD è diventata una seconda casa, una missione quasi. Io ho avuto bisogno di... Stranamente si è pianificato tutto perché ho degli amici napoletani che mi hanno detto io faccio barigliere, andiamo insieme, andiamo tutto da un giorno all'altro e sono partita per l'URD. Ma la cosa stranissima, la cosa che può essere incredibile per molti, ma per me è stato qualcosa di deflagrante è che quando io sono arrivata a l'URD, come ho visto la grotta, è come se lei mi avesse... Io ho sentito, era ora che tu venissi. E mi viene ancora il magone. E allora io vado, sono andata per due anni di seguito come volontaria, non voglio andare come Rita Pamone, vado come una, con il nome da sposata. Però tu puoi anche andare con il nome da sposata. No, no, ma sai, riesci con un ente, con la puffietta, riesci un po' a mistificare. Perché io da trent'anni vado all'URD, diciamo, quando ero bambino niente, nessuno mi guardava. E beh, è chiaro. Adesso, mi prometto le pretelle, però... Però hanno, no, però devo dirti, hanno molto rispetto, rispetto nel fatto che tu vai lì per fare qualcosa, sei volontaria, ti occupi delle persone, ti rendi conto di quanto sei fortunata. Perché, guarda, non è tanto il mestiere che fai, quello che guadagni, ma è come stai. Quando uno ha passato una cosa brutta, come l'ho passata io, ti assicuro che stare bene è la cosa più bella del mondo. Senti, però, noi sappiamo, adesso ti voglio far cantare. Io ti voglio far cantare che questa sera tu sei stata in silenzio nove anni, quasi, quasi nove anni. Però l'energia è sempre la stessa. Io ti ho visto quando sei stata ospite da me, quel giorno si percepiva benissimo che nulla è cambiato. Però prima di cantare, voglio un commento su Papa Francesco. Perché tu l'hai incontrato. Sì, l'ho incontrato, lui mi ha telefonato la vigilia di Natale del 2013, è stata una cosa che non mi aspettavo, ma per via di una situazione, perché io ho avuto un grande successo in Argentina negli anni 60, ed ero convinta che lui mi conoscesse bene. E allora, niente, c'è stata una cosa che non mi piace raccontare. Però scusami, adesso fammi capire, perché tu mi ha telefonato, no? Mi ha telefonato, mi ha telefonato. E non è vero che chiama tutti i giorni, è successo qualcosa che... Ma come ha, scusa, fammi capire, ha chiamato e ha detto, come ha, cosa ha detto? Sono Papa. Io, il fatto che uscivo da un negozio, avevo finito l'ultime spese, e mi suona il telefonino, e io dico, pronto? E questa persona mi dice, Rita Pavone, sono Papa Bergoglio. Siccome io ero memore della Zanzaro, ho detto, qui mi stanno facendo uno scherzo, ho detto, beh, se questo è uno scherzo di cattivissimo gusto, poi, la Vigilia di Natale. No, sono proprio io. Lì io mi sono messa a piangere, perché non credevo, non sapevo più dire una parola, e non sapevo più spiegarmi. Mi sembrava una deficiente, veramente una deficiente, perché ero incapace di proferire una qualsiasi parola. Per uno ha capito la mia emozione, e io l'ho detto, io vorrei tanto conoscere, e lui mi ha detto, ma con piacere, con grande piacere, e dico, posso venire con la mia famiglia? E lui mi ha detto, volentieri. E lì ci siamo incontrati, un giorno ho avuto questa gioia. Allora, questa è una grande gioia che ti ha dato, però adesso noi diamo una gioia di...